Firmato questa mattina dal presidente della regione Luca Ceriscioli il decreto di indizioni delle elezioni del Consiglio e del presidente della giunta regionale delle Marche per il 20 e il 21 settembre del 2020. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 20 e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì 21 settembre. Per ogni circoscrizione elettorale è stato assegnato un numero di seggi. Per la circoscrizione elettorale di Ancona 9 seggi, quella di Ascoli Piceno 4 come anche quella di Fermo. A Macerata 6 seggi, mentre nella provincia di Pesaro e Urbino 7 seggi. Venerdì scorso, 17 luglio, il presidente Ceriscioli aveva comunicato al presidente della Corte di Appello di Ancona la volontà di indire le elezioni nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre e aveva inviato la comunicazione al presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e ai presidenti delle regioni italiane in cui sono previste le consultazioni elettorali. Oggi l'adozione è formale del decreto di indizione delle elezioni regionali. Nelle stesse date si svolgeranno il referendum popolare confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e anche le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Le nostre priorità, ha spiegato Ceriscioli, erano quelle di poter individuare una data che non interferisse con la ripresa delle attività scolastiche e al contempo garantisse la concentrazione delle scadenze elettorali. Dal governo, conclude Ceriscioli, è arrivata l'indicazione di queste date a cui ho ritenuto di aderire per rispettare il principio dell'Election Day in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti del seggio.